... Fernando Pumbum, Michela, qui al Marche Kids Zumba Festival, che dire di questo festival e che dire di quello prossimo che sarà da voi? Allora, è una bella edizione perché è la prima edizione di questo evento Marche Kids Zumba Festival, veramente molto bella perché si vede molta bella energia, molta bella gente e quello che ci dà ancora più gioia è il fatto di vedere che comunque Marche è una delle regioni dove abbiamo iniziato a lavorare un po' di tempo fa e Danilo è stato proprio il primo a cominciare a studiare con noi, oggi vedere che ha realizzato questo progetto che è andato benissimo per noi è veramente un motivo di grande gioia e di grande soddisfazione, non c'è prezzo che paga insomma. Bene, anche noi siamo contenti. Michela, quando ci aspetta il Caripande? Ecco, il prossimo evento siamo a Terni dal 20 al 23 aprile e abbiamo Caripande che voi conoscete già, è il primo festival italiano della cultura angolana e lo possiamo definire come dice sempre Fernando, né il migliore né il peggiore, sicuramente unico nel suo genere. Quindi unico come siete unici voi, perché i loro stage sono seguitissimi e loro sono amatissimi da tutti quanti, perché avete una positività, un'energia molto grande. Grazie mille, diciamo che noi cerchiamo di trasmettere ciò che amiamo, quindi cerchiamo di trasmetterlo con la semplicità, come una cosa che facciamo, perché ognuno è, diciamo, come diceva. Dovrebbe farlo ognuno, ognuno dovrebbe farlo ma non... Allora, io mi limito a quello che faccio, io cerco di fare meglio quello che so fare e quello che amo fare, ok? Quindi se la gente si diverte vuol dire che riusciamo a trasmettere qualcosa di quello che sentiamo dentro noi. Questo di sicuro. Allora un saluto a tutti quanti, ci rivediamo insieme a Movida Channel e insieme anche a Fernando e a Michela. Ciao a tutti. Ciao! Ciao a Movida Channel, ci vediamo sempre su questo canale, Movida Channel ragazzi, salsa baciata, reggaeton, keyzomba, tutto ciò che porta gioia, tutto ciò che fa ballare, tutto ciò che porta energia positiva è su Movida Channel, mi raccomando.